In questa fase finale della programmazione PSR 1422, con un nuovo bando, abbiamo rifinanziato le azioni di promozione dei consorsi di tutela dei prodotti GP e DOP della nostra regione. Così l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, le eccellenze agroalimentari della nostra terra sono tante e sempre più apprezzate, ma necessitano di essere ancora più conosciute per aprirsi a nuovi mercati e consolidarsi su quelli nei quali sono già presenti. Abbiamo rifinanziato consorsi che in questi anni hanno dimostrato di spendere velocemente le risorse, ma che hanno raggiunto anche risultati interessanti per la riconoscibilità di questi prodotti. Da qui la scelta di implementare la dotazione finanziaria e sostenere con maggior convinzione azioni di comunicazione, finalizzate a garantire la diffusione della consapevolezza degli elementi qualitativi e di sostenibilità che caratterizzano prodotti di eccellenza a marchio europeo di qualità e ottenuto con metodo biologico. Abbiamo finanziato per la prima volta anche nuovi consorsi come il Consorzio del Finocchio GP di Isola Caporizzuto.